Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo C, 15, verso 2. Bellissima, mi piace la parola del Signore. La semplicità di Gesù quando spiega le cose si capiscono a occhi chiusi. Quindi ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, 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 via roba secca, via legno che non porta frutto, che non serve. E ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Ogni tralcio che dà frutto. Diciamo che se leggiamo il verso 1, chi è che fa quest'operazione nella nostra vita? Dio. Leggiamo il verso 1, vai. Io sono la vera vita. È il padre mio, è il vignaiuolo. Chi è che pota? Il padre. Giusto? E toglie ogni tralcio che non porta frutto, lo toglie. Perciò noi siamo i tralci, lui è la vita. Ci dobbiamo subito chiedere, stiamo portando frutto? Se no veniamo buttati nel fuoco. Ma quando si parla di fuoco, non è quel poco di fuoco dei sermenti che si trovano nella vigna. È fuoco eterno. Gesù spiega le cose così semplici, però sono profonde. Allora dobbiamo stare attenti. Ci dobbiamo chiedere, ma io sto portando frutto per l'avanzamento del regno di Dio? Faccio qualche cosa? Mi impegno a fare qualche cosa? Sto facendo fruttare il talento che Dio mi ha dato? Perché ogni credente, il minimo, ha un talento. Lo stai facendo fruttare? Te li devi chiedere queste cose. Non perché lo dico io, ma perché dobbiamo fare un po' di esami, tirare le somme e dire io vado in chiesa, vado in chiesa, vado, vengo, vado, vengo. Ma sto facendo la mia parte per l'avanzamento dell'opera del Signore? Stai sostenendo anche questa opera che porta la parola di Dio nella tua casa? Anche questo fa parte del frutto, perché poi il frutto che portiamo per la gloria di Dio non è il mio, è di tutti quelli che collaboriamo per portare avanti l'opera del Signore. Ecco, tu te le devi porre queste domande qua, perché se cammini così non va bene. Se non portiamo frutto ci toglie, recide il tralcio morto per far crescere con meno difficoltà i tralci vivi. Tante volte nella chiesa ci sono di quelli che creano fastidi, creano fastidi, dopo un po' di tempo non ci vengono più nella chiesa. Ah, meno male. Che vuol dire? Vuol dire che Dio a quelli li ha tolti proprio. Ce ne sono di quelli che non hanno la possibilità, sono un po' conegligenti, ma ce ne sono di quelli che certe volte è meglio che non ci vengono, perché ti turbano anziché esserti di aiuto. Speriamo che non siamo proprio noi e perciò ci dobbiamo misurare. Chissà come ci vedono a noi, perché noi molte volte vediamo gli altri, ma non vediamo come ci vedono gli altri. Ci dobbiamo chiedere queste cose. Quando si dice che mi trovo con qualcuno, quello è così, quello è cosà, quello è così, io dico chissà noi come ci vedono. È perché noi pensiamo che noi ci vedono bene, ma non è sempre così. Perciò avere tutte queste piccole cose dobbiamo vigilare, stare attenti, perché guardando gli altri quando fanno errori, e noi facciamo gli stessi errori, e siamo anche noi che stiamo sbagliando. Signore aiutaci questa mattina. Se non portiamo frutto ci toglie, lui recide i tralci morti, per far crescere con meno difficoltà i tralci vivi. I vivi poi fa un'altra operazione, l'ipota rimuove tutto quello che impedisce di portare frutto. Toglie il male. Ieri sera abbiamo letto insieme, toglie, il Signore toglie, le opere della carne, che si trovano in Galati 5, da 19 a 21. Facciamo un esame, se ci sono queste cose. Togliamole noi, subito. Le opere della carne sono manifeste, e sono, dobbiamo togliere, fornicazione, impurità, dissolutezza. Dobbiamo collaborare con Dio. Se vediamo queste cose nella nostra vita, dobbiamo chiedere, Signore, per piacere, taglia l'idolatria, taglia la stregoneria, taglia le inimicizie, taglia la discordia, taglia la gelosia, taglia l'ira che mi arrabbio facilmente, taglia le contesi, taglia le divisioni, taglia le sette. Invidio, ubriachezze, orge, ed altre simili cose, circa le quali non ci fanno vedere il Re. Chi fa tali cose, non erediterà il Regno di Dio dove c'è il Re. Allora, cantiamo, presto o molto presto, noi andiamo a vedere il Re. presto o molto presto, noi andiamo a vedere il Re. Leggiamo questo ultimo rigo un'altra volta. Se noi manteniamo tutta sta roba dentro di noi, chi fa tali cose, non vede il Re. Ma non lo dico io, lo dice la parola di Dio. quando si pota è come quando togliamo una ciste. Non fa tanto bene, però bisogna togliere. Come quando togliamo un cancro, come quando togliamo un punto nero. Esce il sangue. non so se hai visto quando si potano le vite, le viti, nel mese di marzo, piangono i tralci che vengono tagliati. Perché piangono? Piangono di gioia, perché vengono rinnovati. Sanno che sono stati tagliati e si sono fatti male. Però adesso spuntano nuovi tralci. diventa più forte. Alleluia! Però fa male. Esce il sangue. In Ebrei, capitolo 12, verso 4, dice, però, per fare questa operazione, non è che siete arrivati. Voi non avete resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Bellissimo questo. Egli non ci chiama di spargere il sangue alla croce per resistere contro il peccato. Lo ha fatto Lui per noi. Lui, da uomo come noi, si è fatto ubbidiente fino alla morte e alla morte e alla morte e alla morte della croce per uccidere il peccato nella nostra vita. Lui l'ha fatto. Leggiamolo insieme in Filippesi, capitolo 2, verso 8. La Bibbia ci spiega tutto come è il progetto di Dio. Trovato esteriormente come uno di noi, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Noi non siamo arrivati a questo. ora però noi dobbiamo fare che il Padre per togliere il male ci deve potare perché noi abbiamo del male dentro di noi. C'è un bel canto che si esprime così Signor rimonda togli il mal da me la ferita più profonda non mi dolse la fai te. Perché quando la fa il Signore Lui taglia ma rimargina subito perché guarisce e noi dobbiamo desiderare che il Signore tolga il male dal nostro cuore. leggiamo in Ebrei 12 5 e lui ci vuole aiutare e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli cosa dice il Padre Dio figlio mio non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Se mentre ascoltiamo la Sua parola Lui ci riprende perché dentro di noi ci sono delle cose che dobbiamo togliere non stiamo dispiaciuti ma ringraziamolo perché Lui taglia ma rimargina subito e ci sentiamo meglio a Dio sia la gloria e noi dobbiamo essere contenti così portiamo frutto se no non portiamo frutto perciò il Signore ci corregge leggiamo il verso 6 insieme quando sei grande Signore perché il Signore corregge quelli che gli ama e punisce tutti coloro tutti coloro che riconosce come figli stai attraversando un momento che non è tanto felice può essere per motivo di correzione sai quando un figlio non fa come vuole il padre o la mamma ci sono sempre piccole discrepanze mi ricordo mia moglie che quando i bambini in chiesa non stavano composti che non gridava non faceva niente gli dava qualche pizzicotto vicino al braccio sentivo appena appena il bambino che faceva però si fermava ogni tanto può succedere così che il Signore fa con noi si è attraversando un momento particolare che eh sì leggiamolo un'altra volta così riflettiamo perché il Signore corregge quelli che gli ama può essere a motivo di correzione sorella mia perché noi quando succede qualcosa ci avviciniamo di più al Signore mettilo un'altra volta voglio reggere il secondo ritmo e punisce tutti coloro che riconosce come figli questa opera la fa su quelli che sono suoi e che ama non sugli indifferenti quelli che non si importano di niente il Signore li lascia andare si vedrà poi però i suoi li cura e noi lo dobbiamo ringraziare ed essere contenti contenti che ci facciamo male certo ho detto che il tralcio che non parla quando viene potato piange di gioia perché sa che si sviluppano i nuovi tralci proprio questo dice la scrittura Giacomo riprende l'argomento su questo argomento in Giacomo capitolo 1 verso 2 leggiamo insieme fratelli miei anche le sorelle qui sono incluse sorella mia fratello mio considera una grande gioia quando ti vieni a trovare in prove svariate leggiamo fino al verso 4 sapendo che la prova della tua fede produce costanza così continui perseveri non ti fermi la costanza la perseveranza compie compia pieno l'opera sua nella tua vita perché possiamo così perfezionarci e completarci senza che poi ci manca nulla ecco la scrittura come coordina tutto per farci comprendere che anche quello che sembra male a noi è utile per migliorare la nostra vita e portare frutto oh a Dio sia la gloria stai attraversando rifletti prega cerca mentre preghi e cerchi cerca anche se c'è qualche causa che ti accade questo per esempio io posso sentirmi male e torno subito indietro ma che abbiamo mangiato ieri sera per capire che non sia quel cibo che si è messo sullo stomaco e non lo digerisco eh per stare attento per la prossima volta certe volte ci sono i peperoni a tavola i funghi dicono questi non li mangio io mia moglie dice ma sono buoni lo so che sono buoni però me li sento pesante sullo stomaco i funghi eh allora se me li mangio vuol dire che voglio stare male riflettiamo leggiamo un'altra volta questo verso questo verso la costanza compia pienamente l'opera sua nella tua vita perché così sei perfetto sei completo e non manchi di nulla perché in questo modo toglie qualche punto nero qualche dente marcio quando facciamo queste opere non ci sentiamo bene a volte facciamo dolore abbiamo dolore però poi sappiamo che miglioriamo signore aiutaci in ebrei capitolo 12 verso 7 lo scrittore sacro guidato dallo spirito santo non si ferma e dice sopportate queste cose per la vostra correzione Dio ci tratta come figli infatti qual è il figlio che il padre non corregga tutti i veri figli prima o poi vengono corretti perché se non siamo se no non siamo figli chi ci dà l'autorità leggiamo il verso 8 gloria si è resa a Dio ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte allora non siamo figli siamo bastardi siamo figliastri e non figli signore aiutaci non siamo originali non siamo tralci da frutto certo quando taglia non siamo felici perché ci facciamo male quando togliamo un punto nero quando tiriamo un dente quando estirpiamo peli incarnati e non è che ci sentiamo bene però è necessario per stare meglio dopo signore grazie 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 vedi il signore ci parla di cose pratiche e noi dobbiamo essere contenti sai quelli che hanno deciso di cambiare sesso vanno in cliniche specializzate fanno tanti sacrifici per cambiare ma si mettono sotto a macchinari che li devono cambiare signore aiutaci quando il signore ci corregge dobbiamo ringraziarlo non siamo tralci da frutto non siamo tralci da frutto certo quando taglia non siamo felici ma lui rimargina subito la ferita e così porti frutto facciamo subito il cambiamento perché stiamo più attenti per non ripetere gli stessi errori come dice Gesù no Gesù dice che ci sono dei momenti che si soffre ma poi siamo contenti c'è un esempio meraviglioso che Gesù dà Gesù porta esempi semplici che ci fanno comprendere in Giovanni capitolo 16 verso 21 dice una cosa che ci siamo passati pure noi la donna quando partorisce prova dolore perché è venuta la sua ora ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura nuova alleluia alleluia c'è un altro verso che ci aiuta nel vangelo che dice perché la tristezza secondo il mondo porta alla disperazione ma la tristezza secondo Dio porta al ravvedimento ci fa allontanare dal peccato e non c'è mai da pentirsi perché porta gioia si chiama lo stesso tristezza però produce salvezza o a Dio sia la gloria noi dobbiamo distinguere queste cose ma poi è felice prima grida nella sala travaglio e poi la gioia di abbracciare il bambino è un passaggio obbligato questi insegnamenti servono perché sono passaggi obbligati per i credenti perciò Giacomo parla al plurale Giacomo 1 2 dice no fratello fratelli dovunque quale parte del mondo sei parla pure a te perché la parola di Dio è universale leggiamolo un'altra volta Giacomo 1 2 fratelli miei considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate ci sei dentro forse adesso mentre parlo sei in una prova affrontala nel modo giusto e lascia operare Dio mantieniti vicino a Lui ed è il momento di fare una ripassata per dire signore vuoi vedere che ci ho mangiato qualcosa che porta questo danno nella mia vita signore fammi comprendere così non me lo mangio più è figurativo il mio linguaggio signore aiutaci guardiamo qualche evento che la Bibbia è ricca di cose che ci può essere di aiuto leggiamo in Samuele capitolo primo Samuele 2 1 esempi pratici ci sono nella parola del Signore dice così allora Anna pregò e disse il mio cuore esulta nel Signore questa è la mamma di Samuele il Signore ha innalzato la mia potenza la mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza e ma prima non era così e il nostro cuore esplode di giubilo leggiamo il verso 2 se vogliamo gioire dobbiamo permettere a Dio di operare nessuno è santo come il Signore poiché non c'è altro Dio all'infuori di te non c'è rocca pari al nostro Dio possiamo vedere anche il verso 3 questo è un canto di Anna la mamma di Samuele non parlate più con tanto orgoglio non esca più l'arroganza dalla vostra bocca perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo alleluia è un bellissimo canto ma prima non era così e questi esempi ci aiutano a comprendere quanto è importante restare saldi davanti al Signore alleluia qui ci fa vedere questo processo prima non era così quali erano le condizioni di Anna leggiamolo insieme primo Samuele 1 da 11 a 13 guardiamola fece un voto e disse o Signore degli eserciti se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa la parola del Signore dice cercate prima il regno di Dio le altre cose saranno sopraggiunte lei vuole un figlio perché serve il Signore ricordiamoci non è un patteggiamento con Dio ma abbiamo speso già troppo tempo pensando solo a noi piangendo su noi stessi e ora che mettiamo Dio al primo posto cercare prima che l'opera di Dio avanzi e le altre cose ci saranno date in più questa donna con un principio uguale a quello che ha detto Gesù mille anni prima ma già il principio era sano leggiamo il prossimo verso che sei grande Signore tu ci istruisci la sua preghiera davanti al Signore si prolungava e il sacerdote Eli osservava la bocca di lei Anna parlava in cuor suo e si muoveva non soltanto le sue labbra ma non si sentiva la sua voce perciò Eli il sacerdote credette che fosse ubriaca Signore grazie 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 e le disse quando durerà questa tua ubriachezza va a smaltire il tuo vino leggiamo il verso 15 ma Anna rispose e disse no mio Signore io sono una donna attribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore e voleva essere potata voleva fare una potatura Dio fece una bellissima potatura in questa donna tanto che cambiò rileggiamo nel capitolo 2 primo samuele 2 11 a 13 cambiata la scena allora Anna pregò e disse da 11 a 13 capitolo 2 da 11 1 da 11 a 13 sì no chiedo scusa 2 1 e 2 capitolo 1 capitolo primo samuele 2 verso 1 e 2 se no ci confondiamo qui è il canto vedi come ci sono variazioni quando Dio entra in azione nella nostra vita allora Anna prego e disse prega lo stesso ma qui è diverso il mio cuore esulta nel Signore il Signore ha innalzato la mia potenza la mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza leggiamo il verso 2 nessuno è santo come il Signore poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio gloria al Signore questi principi li troviamo nella parola del Signore che ci aiutano nel Salmo 50 verso 14 troviamo con parole diverse lo stesso principio come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'altissimo bellissimo questo mi piace gloria al Signore qui c'è la formulina di lodare Dio per tutto quello che ci ha dato fino a questo momento non dobbiamo andare al Signore come piagnucoloni per dire Signore Signore ci lamentiamo abbiamo già di che ringraziare per quante cose ha fatto nella nostra vita entriamo lodando il Signore benedicendogli benedicendolo e lodandolo perché Lui ha già fatto tante opere nella nostra vita pensa quante ne ha fatte non andare sempre con il muso lungo come 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 un elefante con la proboscite davanti a Dio ha operato tante volte nella tua vita comincia a ringraziarlo e poi dice mentre lo ringrazi mentre lo lodi mentre lo benedici gli presenti il tuo bisogno in Ebrei 13 15 dice che a Lui piace quando noi entriamo lodandolo benedicendolo permesso di Gesù dunque noi offriamo continuamente a Dio un sacrificio di loro cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome dicendo ti ringrazio ti benedico tu sei il mio Dio tu hai fatto cose grandi io sono nella gioia Signore ma sto attraversando un momento particolare che stai potando mi sta facendo mi sta facendo male qualcosa che non capisco che cos'è ma se per il mio bene Signore benvenga ti voglio lodare ti voglio benedire lo stesso o invocami mentre lo lodiamo invochiamo il Signore lo stesso Salmo 50 verso 14 verso 15 chiedo scusa dice così poi invocami nel giorno della sventura io ti salverò e tu mi glorificherai ancora come abbiamo visto Anna che continuava a lodare il Signore lo aveva invocato e il Signore l'aveva risposto e lei lo lodava invocami non è questo è un principio non solo dell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo Testamento negli Atti degli Apostoli nel capitolo 2 lo ricorda anche a noi questa mattina come dobbiamo fare ci dà direttive precise e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato alleluia gloria al Signore perciò funziona la garanzia che funziona è poggiata su Cristo che ha fatto l'opera per noi non è poggiata sul vuoto su fantasia lui ha pagato il prezzo e noi beneficiamo di questo infatti era già stato scritto mille anni che lui fosse venuto nel capitolo 53 verso 5 di Isaia dice che lui doveva fare questa opera egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni strongato a causa delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti e questo passo settecento anni prima scritto dal profeta Isaia è stato confermato da Pietro apostolo di Gesù Cristo perché ha visto che funziona leggiamolo insieme in primo Pietro 3 18 sei grande signore ti vogliamo benedire anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati non per i suoi ma per i nostri lui giusto per gli ingiusti per portarci a Dio fu messo a morte quando la carne ma è vivente ma è vivente per quanto riguarda lo spirito ed è in mezzo a noi noi non siamo arrivati a questo come dice in ebrei 12 4 voi non siete arrivati per combattere contro il peccato come Cristo voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato lui invece è stato oltraggiato in primo Pietro 2 23 24 ci dice che lui ha fatto tutto questo per noi oltraggiato non rendeva oltraggi soffrendo non minacciava ma si rimetteva a colui che giudica giustamente lui si rivolgeva a Dio stava in comunione con Dio leggiamo il verso 24 sei grande Signore egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché noi morti al peccato dobbiamo morire al peccato non deve prendere forza nella nostra vita non gli dobbiamo dare spazio deve atrofizzarsi nella nostra vita vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti e ancora di più perché noi eravamo perduti poiché noi eravamo erranti come pecore ognuno dove si trovava invece oggi lui è venuto a trovarci e ci porta anche il messaggio è facile che sei nella Nuova Zelanda all'altra parte del globo il Signore ti raggiunge perché ti vuole parlare perché ti vuole far comprendere che ha avuto pietà di te e ti porta il messaggio vivente su un piatto di argento per dire guarda cosa ho fatto per te leggiamolo un'altra volta perché eravate erranti come pecore ma ora siete tornati al pastore tutti stiamo seguendo Gesù il nostro grande pastore e guardiano delle nostre anime a Dio sia la gloria ed ora è il mezzo di Gesù siamo figli di Dio e ci deve correggere leggiamo in ebrei 12 4 e 5 perché ci corregge e noi dobbiamo essere contenti che ci corregge perché così ci troviamo bene leggiamolo insieme voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli figlio mio figlia mia dove ti trovi dove sei Dio ci parla Dio chiama me figlio mio Dio chiama te figlia mia non ti sprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripresa ripreso ma sappiamo una cosa importante che così facendoci lavorare dalla mano di Dio in primo Giovanni 3 2 dice che un giorno saremo simili a Lui presto molto presto noi andremo a vedere il Re presto molto presto noi andremo a vedere il Re presto molto presto noi andremo a vedere il Re alleluia alleluia noi andremo a vedere il Re leggiamo insieme cosa dice vai primo Giovanni 3 2 carissimo carissima ora siamo figli di Dio Dio ci ha fatto così per la grazia di Gesù ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è alleluia ora sappiamo che quando vogliamo togliere il male dal nostro cuore un vizio un peccato un'abitudine malefica dobbiamo andare a Dio con tutto il cuore perché Gesù è la vera vita e Lui è il vignaiolo che pota ogni traccio vivo quelli secchi li toglie e li brucia quei vivi li pota e perché portino frutto leggiamolo un'altra volta così ti resta impresso in Giovanni no Giovanni 15 1 e 2 grazie si erano si erano resi a Dio anche per la regia io sono la vera vita e noi dobbiamo alimentarci da Gesù con una continua comunione è il padre mio il vignaiolo cosa fa il vignaiolo ogni traccio che non dà frutto in Cristo lo toglie via e ogni traccio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più due categorie di traccio ci sono quei secchi che non hanno comunione col Signore Gesù sono già pronti per essere bruciati e quelli che portano frutto li pota perché possiamo portare frutto di più con riverenza e sottomissione come Gesù dobbiamo chiedere interagire con la parola la parola che parla e noi che facciamo quello che dice la parola con la sua parola guarda con quanta umiltà Gesù si rivolge a Dio fatti passare per la mente un passo che ti porta lo Spirito Santo quando Gesù andava a Dio mentre era in missione sulla terra ti ricordi come si rivolgeva a Dio Padre Santo le sue preghiere erano tenere umili mansuete era uno che voleva dipendere da Dio in qualsiasi situazione Egli si accostava a Dio così metteva ogni cosa nelle sue mani questo è il modo che dobbiamo andare al Signore per dire fai questa opera nella mia vita abbiamo anche l'esempio del padre di Gesù Gesù è figlio di Davide nella carne guardiamo Davide come faceva quando vuoi togliere qualche punto nero facciamo come Davide che invita Dio a sradicare tutte le iniquità nel suo cuore glielo dobbiamo chiedere hai un vizio che vuoi togliere il fumo la droga un caratteraccio cose che devono cambiare che ti accorgi che sono non sono piacevoli a Dio guarda Davide come faceva leggiamo il salmo 139 23 24 si metteva davanti al Signore e diceva esaminami o Dio e conosci il mio cuore mettimi alla prova voleva fare un collaudo eh guardate se siete nella fede e conosci i miei pensieri che bello leggiamo il 24 vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna come dire Signore pota togli il mal da me togli lo Signore per amore del tuo nome invatti potare potare questo vuol dire il padre mio il vignaio pota i tracci per far portare frutto rileggiamo come fa Davide per far potare a Dio nella sua vita come si predispone leggiamolo insieme esaminami o Dio e conosci il mio cuore metti alla prova e conosci i miei pensieri vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna diciamo che lo vediamo come in una sala operatoria che si apre e dice opera nella mia vita fai tu così dobbiamo fare noi lasciare a Dio che operi nella nostra vita molti credenti fanno solo i moralisti dicendo fai così fai così e loro non fanno così questi sono in pericolo se sei uno di quelli stai attento perché in Romani abbiamo chiaro che cosa voglio dire Romani 2 e 1 il Signore dice a ognuno di noi perciò uomo o donna chiunque tu sia che giudichi perché sappiamo giudicare gli altri ma non miglioriamo noi stessi dobbiamo migliorare noi sei inescusabile dobbiamo aiutare gli altri ma non giudicarli perché nel giudicare gli altri condanni te stesso infatti tu che giudichi fai le stesse cose eh che ne pensi conosci qualche credente così o sei tu così quando gli altri aprono la finestra dici che tira corrente poi con lo stessa temperatura fuori e dentro la apri tu e dici prendiamo un po' di aria sai tollerare te stessa ma non tolleri gli altri attenzione leggiamo questo verso molto importante sapere queste cose perciò o donna o uomo chiunque tu sia che giudichi sei inescusabile perché nel giudicare gli altri condanni te stesso quando aiuti agli altri li dobbiamo aiutare ma non giudicare infatti tu che giudichi fai le stesse cose facciamo le stesse cose sbagliate leggiamo nel verso 3 che ci aiuta molti religiosi fanno così pensi tu o uomo che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scambare al giudizio di Dio certamente no i religiosi fanno così Davide invece no come fa Davide leggiamo un'altra volta così impariamo Salmo 139 23 noi dobbiamo imparare dalla parola di Dio esaminami o Dio e conosci il mio cuore mettimi alla prova fai un collaudo fai una revisione fai un check up fai un'ecografia e conosci i miei pensieri si faceva votare e nel Salmo 17 3 guardiamo come si espone davanti a Dio c'è stato e dice tu hai scrutato il mio cuore l'hai visitato nella notte sta davanti al Signore anche la notte mi hai provato e non hai trovato nulla la mia bocca non va oltre il mio pensiero bellissimo il giorno e anche la notte a volte richiede il tempo e si faceva potare e non guardava che facevano gli altri guardava bene se stesso leggiamo il verso 4 quando sei caro Signore ti amiamo per la tua parola quando alle opere degli uomini io per ubbidire alla parola delle tue labbra mi son guadagnato le vie del violento cioè è diventato violento per fare la volontà del Signore capiamo bene questo è un pensiero come quello che Gesù dice da Giovanni Battista in poi sono i violenti che entreranno nel regno dei Cieli quelli che non si stancano mai che non si lasciano impedire dalle circostanze ma che sono inistancabili e perseveranti per restare santi nelle vie del Signore davanti al Signore Signore grazie ma ubbidiva quello che Dio dice ubbidiva la sua parola e continuò a camminare nella sua grazia leggiamo il verso 5 e noi dobbiamo continuare a camminare nella grazia i miei passi si sono tenuti saldi sui tuoi sentieri non ha vacillato i miei piedi non hanno vacillato scruta vedi e conduci mi per la via eterna non vuole perdere di vista l'eternità per raggiungerla come ultima eredità dove vediamo il Re leggiamo il Salmo 139 verso 24 e comprendiamo aveva una visione chiara che lui era diretto al cielo vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna Gesù dice io sono la via la via eterna in Giovanni 8 12 dice chi mi segue cammina nella luce della vita Gesù dice di nuovo a noi io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita eterna senza fine e c'è un verso che dice anche se muore chi crede in me come dice la scrittura anche se muore fisicamente vive eternamente ma vivrà io sono la risurrezione e la vita chi crede in me come dice la scrittura anche se muore vivrà moriamo fisicamente ma vivremo spiritualmente per tutta l'eternità e seguire Gesù luce eterna qui e nel cielo per tutta l'eternità permettiamo a Dio di operare nella nostra vita ci sono stati dei versi che ti hanno parlato non tutto quello che ho detto però c'è qualche verso che ti ha colpito non io la parola di Dio ora che metto quello che abbiamo letto prendi nota quei versi valli a leggere perché l'opera del Signore si sviluppa così attraverso lo Spirito Santo nella nostra vita sono quei pezzettini della parola che scendono nel tuo cuore perché è il seme e quando senti che ti colpisce che ti parla che porta luce lì dentro c'è la presenza dello Spirito Santo che desidera che tu gli dai spazio perché lui la feconda e comincia a crescere la fede nel tuo cuore perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo lo Spirito Santo energizza la parola che ti parla e quando tu gli dai spazio che vai a rileggere per dire Signore che cosa mi vuoi dire lì comincia il processo della nuova vita in Cristo che ti aiuta a sviluppare ciò che dice la parola di Dio quella che ti è stata data adesso mentre fresca ancora il tuo cuore valla a cercare e apri il tuo cuore a Cristo e digli Signore fammi comprendere e lo Spirito Santo mette sentimenti che ti rispondono alla tua domanda sincera davanti a Dio ringraziamo il Signore insieme Signore ti ringraziamo per la tua parola perché essa opera in un modo straordinario ti vogliamo dare lode onore e gloria partecipa alla tua presenza ad ogni cuore benedici tutti coloro che siamo stati insieme e quando riascolteranno attraverso qualsiasi canale questo messaggio sia accompagnato accompagnata la tua parola dallo Spirito tuo Santo che dove arriva ci sia la vibrazione della tua presenza feconda che porti frutto per la gloria di Gesù te lo chiediamo insieme Padre Dio Onnipotente per i meriti di Cristo il tuo figlio il nostro Signore benedetto Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org